Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni Divina Volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti i coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sopra una regina a te mi affido affinché guidi i miei passi. Il Regno del Volere Divino è stretto alla tua mano materna e guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, canale! Prende un'ora, canale! Apri le tue mani, Gesù Io mi abbandono a te Io credo solo in te, Gesù Io adoro solo in te, Gesù Io mi abbandono a te Io amo solo in te Io mi abbandono a te, Gesù Dal Libro di Cielo, volume 20, 21 febbraio 1927 Perché tanto interesse di Gesù che vuol far conoscere la volontà divine La mia povera mente si perdeva nelle tante conoscenze del supremo volere e pensavo Perché Gesù tiene tanto interesse che si conosca questa divina volontà e che regni in mezzo alle creature Ora, mentre ciò pensavo il mio sempre amabile Gesù è uscito da dentro il mio interno E mi ha detto Io non potrò dare ciò che voglio Ed in loro mancherà la capacità, lo spazio per poter ricevere ciò che posso e voglio dare Solo la mia volontà tiene questa virtù Questa potenza Tenendo la stessa via può riceverlo Tenendo la stessa via può riceverlo oppure salire per andare a prendere essa stessa ciò che il suo Signore le vuol dare Per quanto un re sia ricco e potente Se non trova a chi dare Non avrebbe mai il contento, la soddisfazione di poter dare Le sue ricchezze saranno inoperose, isolate, abbandonate Lui forse vivrà affogato nelle sue ricchezze Ma non avrà mai il contento e la felicità di dare E di godere i suoi beni Perché non trova a chi darli Questo re sarà un re isolato, abbandonato, senza corteggio Non avrà chi gli sorride, chi gli dice un grazie Non sarà mai festa per lui Perché la festa si forma col dare e col ricevere Sicché con tutte le sue ricchezze questo re avrà un chiodo nel cuore L'abbandono La monotonia Sarà ricco ma senza gloria, senza eroismo, senza nome Qual dolore per questo re Con tutte le sue ricchezze Ora figlia mia La causa perché mettemmo fuori la creazione e creiamo l'uomo Fu per dare le nostre ricchezze Affinché alla gloria interna E felicità immensa che teniamo Si unisca la gloria esterna Delle opere nostre Quindi non stando la creatura nella nostra volontà Ce la sentiamo lontana Né c'è chi ci circonda col suo grazie Né chi ci sorride di compiacenza per le opere nostre Tutto è isolamento Siamo circondati da immense ricchezze E poiché le nostre creature sono lontane da noi Non abbiamo a chi darle Non abbiamo chi ammira le nostre opere per farle godere Siamo felici ma per noi stessi Né vi è chi possa minimamente turbare la nostra felicità Ma siamo costretti a vedere l'infelicità delle creature Perché stando disunite da noi Loro non possono prendere e noi non possiamo dare La volontà umana ha formato i cancelli Ha chiuso con chiavi le porte di comunicazione Il dare è liberalità, eroismo, amore Il ricevere è grazia E la creatura col fare la sua volontà impedisce la nostra liberalità Il nostro eroismo, il nostro amore E se qualche cosa si dà È sempre ristretta Avvia di sforzi, di intrighi Perché non stando l'ordine tra loro e noi Le cose non corrono liberamente Noi non siamo capaci di dolori Il nostro essere è intangibile da tutti i mali Ma se fossimo capaci di dolori La creatura avvelenerebbe la nostra esistenza Ecco Perciò tutto il nostro interesse È perché vogliamo far conoscere la nostra volontà E che regni in mezzo a loro Perché vogliamo dare Vogliamo renderla la creatura felice Della nostra stessa felicità E solo la nostra volontà può fare tutto questo Cioè realizzare lo scopo della creazione E farci mettere in comune i nostri beni Oh volontà di Dio Quanto sei ammirabile, potente e desiderabile De, col tuo impero vinci tutti Fatti conoscere Ed attendici tutti A te Cominciamo questa meditazione che cade Storicamente nell'inizio della Quaresima del 2021 Oggi è il mercoledì Delle Ceneri 17 febbraio 2021 E qui abbiamo una piccola sorpresa Perché questo brano Si presta molto bene Non soltanto alla meditazione Per la nostra costante e progressiva crescita interiore Ma anche a farci comprendere il senso più profondo Della Quaresima Perché generalmente Premesso che purtroppo per molti battezzati Per non parlare poi di chi ha completamente abbandonato Ogni forma di pratica religiosa La Quaresima è come se non ci fosse oggi Quindi anche il clima che c'è in giro Nelle nostre società post-cristiane Non è certo quello della penitenza Insomma della preghiera eccetera eccetera Non è così tanto sentito come un tempo Questo tempo Come una volta nel corso della storia Questa è una premessa Doverosa Perché è una premessa di Onestà storica insomma Negli ambienti in cui la Quaresima Diciamo così È ancora considerata O anche valorizzata Generalmente Questo tempo È percepito come un tempo Non so triste Tempo doloroso Perché è il tempo Dove la Chiesa ci dice di fare Qualche digiuno Non ne facciamo più quasi nessuno Però per esempio oggi è giornata di digiuno E astinenza dalle carni Il venerdì di Quaresima E astinenza stretta dalle carni Il venerdì santo È di nuovo un altro giorno di digiuno Il venerdì santo Non ci sta la messa Il sabato santo Le chiese sono spogliate Quindi Sono tutta una serie di segni L'esercizio diciamo Di preghiera tipico della Quaresima È la via Crucis Che è Un ripercorrere le orme Della passione Della morte di Gesù Quindi È un tempo È un tempo triste Insomma Perché si pensa a cose tristi Si pensa alla passione Si pensa alla morte Si praticano le opere penitenziali Della Chiesa Insomma No Ammesso che qualcuno Le continui ancora a praticare Adesso sentiremo Sia La liturgia del mercoledì Delle ceneri Quella della prima Domenica di Quaresima Che danno un pochino Il lano A questo tempo Quindi sarebbe un tempo Di tristezza Ma non è affatto così Non è affatto così È un tempo di gioia Immensissima E straordinaria Grande Perché? Perché tutto quello Che quel poco O medio O molto Che la Chiesa Ci invita a fare Che può essere La nostra Responsabilità E discernimento Viverne lo spirito Metterlo in pratica A cosa serve? Serve a Rendersi Perfettamente Dilatati Partecipi Dei frutti Dell'opera Della redenzione Delle grazie Che il Signore Vuole darci Cioè Se io non prego Prendiamo la preghiera No Cioè I santi Ci stanno Padre Pio Sant'Alfonso Insomma Che Erano lapidari Chi prega Si salva E chi non prega Si danna Se tu vuole Grazie dal Signore Devi pregare Senza la grazia Di Dio La tua vita Non è una vita Serena Benedetta In pace Piena di gioia Piena d'amore Non è così Allora È chiaro che Per chi già Ha una vita Di preghiera Intensa La quaresima Non è che Dici Mamma mia Adesso Mi tocca Pregà Magari Faremo un po' Meglio Quello Che stiamo Facendo Già Come dire Curando maggiormente La qualità Forse potremo Aggiungere Qualche piccola Cosa Che cosa Vuoi Che mi faccia È già aperto Quel canale No Il digiuno Che è Diciamo Un atto Forte Della virtù Cardinale Della temperanza La temperanza Si legge Nei manuali Di ascetica Di teologia È quella virtù Che ci regola Ci modera Nel Godimento Dei beni Sensibili Ma Non è che Dio Non vuole farci Ecco Vedi Dio non ci vuole far godere I beni sensibili Quindi Non è amico Della nostra felicità Ci toglie qualcosa Questo non si può Questo non si può Quest'altro non si può Allora Qual è il punto Dio non è nemico Della tua felicità Ma La felicità Che ti possono dare I beni sensibili È una cosa molto piccola E pericolosa Per cui A piccole dosi Ti fa bene Ti dà quel Pochettino Ecco Di gioia Che poi Nella divina volontà Noi impariamo A santificare Perché Sono tutti quanti Ti amo Dell'altissimo Se vedo Un bello spettacolo Con il senso Degli occhi Anche se dovessi Vedere un bel film Che si può vedere Certamente O ascoltare Una bella canzone O gustare Un buon cibo O profumare O profumare Vedere il nostro signore Le cose che ci ha Da dirti Nostro signore L'amore Con cui ti vuole riempire I piaceri Che sono nascosti In lui Sono molto più grandi Di questi Allora La moderazione Ma se uno Mangia troppo Si sente male E poi diventa Obeso Se uno Abusa Delle bevande Alcoliche Si ubriaca Si degrada D'accordo E poi diventa Indipendente Se uno Non sta attento Con la televisione Passare giornate Intere Là davanti O davanti A social network O pensiamo Alla gente Che non sa stare Senza Tutto il giorno Con la musica Accesa O cose di questo genere I sensi Danno Questa Suefazione Questa Dipendenza Quindi Dobbiamo imparare A farlo Un uso Moderato Perché se mi sento Una bella canzone Due Anche Faccio un bel Ti amo Al nostro signore Penso alla musica Questa creatura Meravigliosa Che ha fatto All'intelligenza Che ha dato all'uomo Di inventare Belle melodie Un bel testo Una bella parola Ma se sto Dalla mattina Alla sera Con la musica Accesa Che sto rimbambito E' chiaro Che non diventa Più una cosa Bella L'altra cosa L'elemosina Ossia Il dare 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 C'è chi pensa Che Ah ma come dare Mi impoverisco Oh Dopo Mi finiscono I soldi Eh ma io devo Stare attento Io devo provvedere A me Il dare Non è finalizzato A fare Ma così poi Vado a finire Sull'astrico Il signore Ha detto Date E vi sarà Dato Cioè Se tu Se tu dai Quello che dai Di cui Dio Non ci ha bisogno Ha anche detto Nella meditazione Di oggi Guarda che io sono già felice In me stesso Non è che tu mi fai felice In me stesso La mia felicità E la mia gloria Intrinseca Non me la tocca Nessuno D'accordo Non è che Quello che noi facciamo Può cambiare Non è che Dio C'ha bisogno Dei tuoi soldi E delle tue opere Di carità Dei tuoi beni Non c'ha bisogno Di niente Ce n'hai bisogno Tu Perché se tu Per amore suo Dai 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 E ti dai Sai che succede Che lui ti darà Ti ridarà E ti ridarà Molto di più Di quello che tu hai dato Molto di più Non solo dopo Dici ma Sì adesso qui farò una vita Da popelaccio E poi in cielo Forse ci sarà la ricompensa No no Non ti mancherà nulla Abbi fiducia Non ti mancherà Nulla Avrai il necessario Eppure il superfluo Se Dio Vuole fare Quello che spesso fa D'accordo Cioè Sovraccaricarti di bene Cioè Il senso di quello che Gesù Oggi ci ha detto È che Quello che Dio vuole Per noi È solo Una Cosa Non ci sono Altre cose Che vuole per noi Vuole Che noi siamo Felici Ha creato Per questo La causa Per cui mettiamo fuori La creazione E creiamo l'uomo Dice Gesù Ma questo la chiesa Lo sa Sempre predicato Fu per dare Le nostre ricchezze Affinché Alla gloria interna E felicità Immensa Che già teniamo Dice Gesù Si unisca Alla gloria esterna Delle opere nostre E qual è? Qual è la gloria esterna? Vedere I suoi figli Felici Vedere I suoi figli Felici Tutto qui Dice Gesù Il nostro interesse Per cui vogliamo far conoscere La nostra volontà E che regni In mezzo a loro È perché vogliamo dare Vogliamo renderla felice Della nostra stessa felicità Non c'è altro Dice Gesù Noi siamo già affogati Nelle nostre ricchezze Cioè È una bellissima immagine Dice Quest'ore che vi avrà affogato Nelle ricchezze Dio con tutti i beni che c'ha Non sa dove metterli D'accordo? Cioè Noi pensiamo Ai super grandi ricchi Della terra Pensiamo Il fondatore di Amazon Il fondatore della Microsoft Che ne so I fondatori di Apple Di Google Facciamo par condicio No? Cioè Se uno pensa Ai patrimoni che hanno Io ogni tanto scherzando Insomma Dico Se questi ci avessero Non lo so Una vita di 500 anni E proprio volessero scialare Proprio Ma sai che significa A fare lo spendacione Proprio Il prodigo Ma non gli finisce Tutto quello che c'hanno Non gli finirebbe E sono delle creature umane Che parlano Di ricchezze materiali Ma Dio è molto di più Cioè Veramente Dio È un sovraccarico Di beni Inimmaginabili Non sa dove metterli Ne produce In continuazione Cioè La divina volontà È una produttrice Ininterrotta Di beni Di gioia Di felicità Secondo il nostro Istante dopo istante Attimo dopo attimo È sempre nuovi È un pozzo senza fondo D'accordo È un mare Ineffabile E dice Ma come mai Che se Dio è così tanto ricco Noi siamo così Miserabili e poveri E te l'ha spiegato Gesù Te l'ha spiegato Perché non te le può dare Tutte queste cose Non è che non te le vuole dare Attenzione Dio ce le vuole dare Ma non trova Le disposizioni Adatte Per mettercele Per darcele Perché la volontà umana Ha distrutto tutto Il peccato Ha distrutto tutto Ha creato una separazione Ha creato un muro Ecco Perchè Che cos'è La quaresima È proprio Un tempo fondamentale Tipico Di quello che si chiama Negli scritti di Luisa Con termine tecnico Il fiat redimente Perché Perché se tu Anzitutto Non ti liberi Di tutto ciò Che Non soltanto è male Quindi del peccato Evidentemente La prima cosa Da cui di giornare Nel tempo del quaresimo È il di giorno Adatta al peccato Questo è proprio Il senso fondamentale Che la Chiesa Intende Trasmettere ai suoi figli La caducità Della vita terrena Pensiamo alle due formule Del mercoledì Delle ceneri Ricordati che Se polvere E in polvere Ritornerai E convertiti Adesso nel nuovo Mensale Convertitevi E credete al Vangelo Quindi La vita terrena Finisce presto Abbandona Il modo di vivere Umano E comincia A vivere Da figlio di Dio Convertitevi E credete al Vangelo Allora Se tu non rimuovi Gli ostacoli La prima cosa Che Gesù ha fatto È stata la redenzione Non ha parlato subito Della divina volontà Ce l'ha spiegato Cento miliardi di volte Negli scritti Perché Perché Ma dove la va a mettere La divina volontà Se una persona Sta per esempio Ancora Allacciata Nei vizi capitali Nei sette vizi capitali Per esempio La superbia L'avarizia La lussuria La gola L'ira L'invidia L'acidia Ma queste sono cose Che Con la divina volontà Ci fanno a cazzotti Proprio Cioè Sono incompatibili Meno che il giorno E la notte D'accordo Impossibile D'accordo È come se tu volessi Cioè se tu metti L'olio Sopra l'acqua L'olio galleggia Tu puoi stare Piangi in greco romano L'olio sotto Sotto l'acqua Non ci va Se si sta l'acqua Dei nostri vizi L'olio del cielo Dentro le nostre anime Non ci entra Non ci può entrare Allora Siccome non dobbiamo Fare i compartimenti Stagni No Quindi diciamo Io sto cercando Di vivere Nella divina volontà Quindi queste cose Non mi appartengono No Mi appartengono E come Tu continua A esercitarti Perché Quanto più Questo è il senso Il tuo cuore Sarà distaccato Da tutti Distaccato da tutti Non significa Che tu Vivi come una sceta O come un monaco E magari c'è la moglie Il marito I figli Una vita sociale E ti metti a fare Delle stranezze Che non stanno Che non stanno Né in cielo Né in terra E che Dio Non ti chiede È un fatto Di cuore È un fatto Interiore Profondo D'accordo Gesù dice Là dov'è il tuo tesoro Lì sarà il tuo cuore Cioè Se tu ami Dio Al di sopra di tutto Ecco anche il senso cristiano Della penitenza No Dici Rinuncia a vedere un film Per amore suo Ma subito C'è il suo problema D'accordo Non c'è Non c'è problema Ma lo faccio volentieri Perché Cioè L'autore della stessa felicità Quello che dentro di sé C'ha certi spettacoli Che quando li vedremo Ma altro che il più bel film Che sia mai stato fatto Fa ridere le galline No Che non fanno Faccio Io ti dimostro O signore Che tu Che ci tengo molto più a te Che sei la fonte stessa Di quella felicità Che provo Piccola Nel vedere un bel film Piuttosto che una Che è una cosa contingente Un film Dura due ore Finito il film E come dire Il diletto che ti ha dato È finito Quindi è un bene Fimero D'accordo Allora Non è facile Perché Quando si vive Nella divina volontà Attenzione Tutto si riceve da Dio Allora E lo si vive Con moderazione Io sono convinto Mi dispiace Insomma Un figlio della divina volontà Non sarà mai Intemperante nel mangiare Mai E non diventerà obeso Non può E non deve diventare obeso Non è possibile D'accordo Perché l'obesità È un disordine È una mancanza di equilibrio Tu stai Utilizzando Male Un bene Che sono appunto I cibi che Dio ha dato Perché tu possa vivere Perché tu possa Rodarlo e benedirlo Allora Un figlio della divina volontà Sa mangiare Nel senso che Tutte quante le cose Che mangia Per lui Ormai diventa Un ritornello Riceve Tutti quanti Ti amo Da parte del Signore Ma sa stare Sempre Nei margini Di una moderazione Può prendere tutto Può prendere anche Un goccetto di vino Ogni tanto Può prendere pure Un pochetto di birra Può prendere un goccetto Di liquore Ma un goccetto E se arriva un tempo In cui dice Facciamo piazza pulita Via E se il nostro Signore Domani ti dicesse Facciamo piazza pulita Via E se devo fare un giorno Di digiuno Ma volentierissimo È un modo diverso Per amare il Signore Cioè Per arrivare A questa statura E questa Non è che si improvvisa Che nasce Dall'oggi al domani C'è un cammino Mai interrotto Che noi dobbiamo Continuamente Percorrere Ma quello che deve Sempre guidarci Perché noi appena Sentiamo il termine Rinuncia Sacrificio Mortificazione Penitenza Ci seggera subito Il sangue E ci intristiamo Non è così Tu guarda sempre Il termine Prendere La felicità Essere in condizione Di mettere Dio In condizione Di darmi tutto Quello che vuole darmi Ma tu non hai L'idea Di quante cose Vorrei darti Nostro Signore In questa vita Gli esseri umani Non ne hanno La più palida idea E non è Ripeto Soltanto Non hanno La più palida idea Del paradiso Questa non ce l'avremo mai I santi dicevano Tanto è grande Il ben caspetto Ogni pena Ma è diletto San Paolo dice Cose che occhio non vide Ne orecchio udì Nemmai entrarono In cuore di uomo Queste Dio ha preparato Per coloro che le amano Quindi Non possiamo Non potremo mai Farci una Rappresentazione adeguata Anche se Grazie a Dio Nostro Signore Attraverso qualche anima Ci ha Mandato qualche Barlume Diciamo Di quello che è il paradiso E solo con quel barlume Uno Dice Ma di che vogliamo parlare Che stiamo a fare Quaggiù Ecco Però attenzione Il paradiso Non è soltanto Un dopo Io non mi stancherò mai Di ripeterlo Questo qui Cioè la proprietà La caratteristica Quello che accadrà Con la divina volontà È che il nostro Signore Non dovrà stare Cioè Secondo il nostro modo Di pensare Qui Gesù Poi lo conferma No Dice Noi siamo costretti A vedere l'infelicità Delle creature Non possono prendere Da noi Che ce faccio Con tutte quante Le ricchezze che ho Sì gliele darò dopo Ma perché non gliele posso Da subito Perché Dio non ci ha creato Per farci soffrire Sulla terra Come qualcuno pensa Qualcuno C'è ancora questa immagine Della Come dire Del cristianesimo Che ha qualcosa Di vero Ma Non troppo D'accordo Quale sarebbe Detto in due parole Allora Che cosa dice il cristianesimo Che tu qui devi soffrire Devi mortificarti Devi rinunciare Perché poi In paradiso C'è la ricompensa Proprio dette Nel linguaggio Puerile Infantile Quindi se a me Non mi va Di stare In uno stato Di sofferenza Perpetua Pura sul pianeta Terra Non sono più cristiano Perché me ne voglio diverti Pure un pochetto qua Diciamo che Sto semplificando In maniera quasi Puerile Ma non è così Certo Per essere Disposto A ricevere Tutte le grazie Di Dio Sia di là Che di qua Bisogna Tagliare Con tutta quanto Una serie di dinamiche Che la chiesa Sono duemila anni Che ci insegna Vengono dal peccato originale E dai nostri peccati attuali Gesù Approfondisce Sono figlie Della divina Dell'umana volontà E quindi Tutti quanti Questi canali Avvelenati Che noi abbiamo Dobbiamo Chiuderli Dobbiamo Tagliare Dobbiamo Attapparli Dobbiamo Scapparne Dobbiamo starne via E siccome Sono cose A cui ci siamo Un pochino Abituati Anche se È chiaro Che c'è Stampo Da soffrì D'accordo Ma è come È come Quando uno soffre Cioè Devi fare Devi fare Una dieta Hai messo 15 kg Te soffrì Eh ma quando sei diventato Bello snello Sei tutto contento Non sei del tanto contento Per la soddisfazione È che ti senti meglio Ti senti bene Ti senti in buona salute Non ti senti più appesantito Ti senti tonico Ti senti Bene Ecco Come quando uno sta male Non è che si diverte A farsi fare le terapie O le operazioni O tutto il resto Ma Ha in vista La salute Ecco Così Le cose Che noi dobbiamo fare Anche in questo Prattutto In questo tempo Ma sempre Perché Altrimenti Non c'entreremo mai Nella divina volontà Non c'entreremo mai Sono queste Bisogna essere Devono essere viste Con questo spirito E mentre lavoriamo Appunto Nel distacco da tutto Procuriamo Di Far Piantare Alimentare E crescere In noi La vita Della Divina volontà In modo tale Che si avrà Certamente Questo processo Graduale Che Come dire San Giovanni Battista Diceva Lui deve crescere E io devo diminuire In noi deve diminuire La volontà umana Sempre di più E deve aumentare Quella divina Quando la volontà umana Starà a zero E la volontà divina Starà a cento Allora staremo in paradiso Già dalla terra D'accordo Quindi il tasso Del Come dire Della felicità terrena E questo È inversamente Proporzionale A quanto c'è La volontà umana In me E direttamente Proporzionale A quanto c'è Quella divina In me Questo tempo Così come In generale La L'ascesi Della vita cristiana Che c'è sempre E c'è anche Nella divina volontà Ha sempre Questo fine Ha sempre Questo obiettivo Non dobbiamo mai Dimenticarlo Che Dio vuole Parti felice Dopo Ma anche Adesso E che tutto Questo ti aiuta A scrollarti Di dosso Tutto ciò Che ti impedisce Di poter Godere Dei suoi beni Delle sue grazie Per la tua felicità Terrena E Ultraterrena Grazie Il Signore O Santa Vergine Maria Ha usato un termine Veramente molto bello Questa mattina Che Forse può aiutarci A sintetizzare Questa meditazione E anche a portarcelo dietro Affogato Nelle proprie ricchezze Dio vive affogato Nelle sue ricchezze Ma vuole affogare Anche noi In queste ricchezze Quando noi pensiamo A te Basti pensare Al saluto Dell'angelo Piena di grazia Termine che Tra la traduzione Italiana Non rende Assolutamente Tutto quello Che La bellissima Sintassi In più che sintassi Ecco proprio Conjugazione verbale Ebraica Esprime Da proprio Questa immagine Di che è stata Completamente Inondata Dalla grazia Come Dio E mari infiniti Che non sa dove Metterseli E E Successa La stessa cosa Con te Solo che I tuoi mari Non sono infiniti Ma certamente Sono Sono immensi Non sono infiniti Perché La partecipazione Della creatura È sempre limitata Ma Tu Attaccata A quella Sorgente Inesauribile Di doni di grazia Ci sei stata Ininterrottamente Ci sei stata E sempre Ci sarai Ecco E quello che per te È stato in maniera Così sublime Può essere Certamente in maniera Proporzionata Anche per noi Tu che l'hai vissuto Tu che sai bene E capisci bene Quello di cui parla Gesù Parla al nostro cuore Fa risuonare Dentro il nostro cuore Queste Queste parole Perché ci possiamo Credere E quindi Veramente Possiamo considerare Sempre tutto Niente Poco Nulla In confronto Alla possibilità Di entrare in possesso Di beni Così Grandi Nella divina volontà Nel nome del Padre Del Figlio E dello Spirito Santo Amen Ti benedico Per aiutarti Ti benedico Per difenderti Ti benedico Per perdonarti Ti benedico Per liberarti Da ogni male Ti benedico Per consolarti Ti benedico Per farti santo Ti benedico dunque Nella divina volontà Nel nome del Padre Del Figlio E dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria